L'esorcista di William Fredkin è considerato uno dei film più spaventosi della storia del cinema. Ma sapevate che c'è una storia vera dietro la sua scrittura? Le origini dell'esorcista infatti risalgono in Maryland, quando nel 1949 un ragazzo di nome Roland Doe ha dovuto sopportare diversi esorcismi, sia in chiesa che in casa che in diversi ospedali. Ovviamente Roland Doe, il nome del ragazzo quattordicenne, non è il vero nome della vittima, in quanto l'identità del ragazzo è stata nascosta al pubblico per evitare problemi in futuro. Sembra infatti che Roland Doe sia stato posseduto e abbia iniziato ad avere questi problemi proprio durante, mentre giocava, con una tavola Ouija. E durante uno di questi giochi si è morta una sua zia. Dopo la morte della zia, infatti, il ragazzo ha iniziato a comportarsi in modo strano. Dalla sua cameretta provenivano rumori inquietanti e riportava ferite che, sembra, venissero automaticamente impressi sul suo corpo. Di improvviso veniva trovato insieme ad oggetti che volavano dentro la stanza in cui era lui. Tutte cose che William Fretkin ha inserito nel suo film, come sappiamo bene, perché nell'esorcista ci sono appunto tutti questi dettagli provenienti da questa storia. Ad esorcizzare il ragazzo fu chiamato padre Raymond J. Bishop, il quale tentò in tutti i modi di scacciare la presenza che Roland aveva dentro di sé, ma nel momento in cui sembra che i risultati iniziassero ad avere effetto, Roland attaccò padre Raymond e questa è una delle scene che è riportata proprio nel romanzo dal quale il film di Fretkin è tratto, ovvero il romanzo scritto da Peter Blatty. Sul corpo del ragazzo fu trovata incisa la parola Jules. Questa cosa portò la famiglia a rivolgersi proprio alla St. Louis University per cercare di risolvere questa situazione che attanagliava ormai la famiglia da parecchio tempo. Alla St. Louis University parlarono con il reverendo William Bowdern e il compadre Walter Halloran, i quali continuarono l'esorcismo e cercarono in tutti i modi di aiutare il povero Roland. I due da soli non riuscirono ad aiutare il ragazzo e infatti vennero aiutati da padre William Van Roo che insieme ai due precedenti frati chiamati prima riuscirono a liberare Roland finalmente da questa sua maledizione. Quindi per il momento sembra che il ragazzo sia stato salvato da questo esorcismo. Non si sa ad oggi però chi fosse in realtà questo ragazzo. Non sappiamo chi sia stato questo fandomatico Roland Doe ma ci sono molte idee e molte chiacchiere che si fanno da un po' di anni a questa parte. Soprattutto dopo l'uscita del film, dopo che si è saputo che William Fretkin ha ispirato molto di quello che abbiamo visto nell'esorcista proprio da fatti realmente accaduti. Secondo alcuni esperti però la vera identità di Ronald Doe sarebbe quella di un ex ingegnere della NASA che ha contribuito allo sbarco della Luna nel 1969 ovvero Ronald Edwin Hunkler. Hunkler però non ha mai fatto parola dell'accaduto non ha neanche mai smentito questi avvenimenti in quanto all'età di 86 anni nel 2020 Hunkler è morto per cause naturali proprio in Maryland. Non sapremo mai la verità sulle origini dell'esorcista. Ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. È un piccolo fatto interessante che riguarda l'esorcista soprattutto vista l'uscita tra pochi giorni di l'esorcista il credente, il sequel e diciamo il primo film di una trilogia che vedrà questa volta protagoniste due bambini possedute. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia se avete aspettative per il secondo capitolo dell'esorcista e se magari avete voglia di vederlo o proprio ne avete abbastanza di film sull'esorcismo perché l'esorcista ce n'è soltanto uno. Ciao a tutti ragazzi da Ciaccazione e da Valerio Perrone. Vi ricordo che trovate tutti i link dei nostri social qui in descrizione da Instagram, Facebook e appunto YouTube. Grazie ancora e buona giornata.